Qui sotto ho trovato una brutta sorpresa, non so se avete già capito di cosa farlo, l'alone verde non si può confondere con nient'altro, parliamo di un batterio che si chiama Pseudomonas. Questo batterio, un po' fetente, si infiltra all'interno dei sollevamenti e inizia subito a colorare l'unghia di verde, quindi la prima cosa che ho fatto ovviamente è togliere il prodotto per liberare l'unghia. Guardate com'è brutto, fa anche un po' impressione, Ovviamente però bisogna prestare attenzione perché è altamente infettivo, quindi tutto quello che tocca quest'unghia deve essere buttato o sterilizzato. Io proprio per questo ho utilizzato una lima che poi ho buttato subito dopo aver finito di limare l'unghia. Ho un po' opacizzato la superficie dell'unghia per capire in che stato era realmente e fin quanto era entrato in profondità il batterio. Ho accorciato e lasciato l'unghia libera. Il batterio muore a contatto con l'ossigeno, ma va comunque disinfettata, quindi meglio rivolgersi ad un medico per sapere come procedere. In questi casi, quando la macchia è stesa, è meglio non coprire col gel. E a voi? È mai capitato lo pseudomonas? Se sì, come vi siete comportate?